L'arrampicatore serio, quello che fa grandi cose, è quello che non ha niente da perdere, ma non che non abbia niente da perdere, perché la vita è già un valore immenso e va rispettato. Però quando ti trovi a un certo punto che ti chiedono l'autografo, l'alpinista, ovvero l'uomo, ha paura di perdere questa gloria e quindi ha paura di farsi male e di morire. Però l'evoluzione è questa, l'evoluzione non è che l'alpinismo non è comporre musica che ti viene, bisogna lavorarci. E mi scopro un uomo che vuole levigare. Quella mattina che vuole fare a colpi d'ascia, come scrisse Thomas Bernard, non posso avere uno stile. Lo stile è un fossilizzarsi. E glielo dice i soloni, dicono no. Per cui è inutile menarla tanto su dove va l'alpinismo, segue l'evoluzione di ognuno di noi, che l'uomo non è statico, non è infossile. Esatto, esatto. Cosa proponi? Bubu, se ti metto il ben, portami a casa, che mi sono scolato mezza bottiglia di whisky, proprio non me la sento. Dici? Meglio andare al bar, va.